Questa sera, verso le ore 19, da una finestra del quarto piano di una palazzina, in via Mucendola, a Conversano, si è visto uscire del fumo che ha fatto allarmare gli abitanti della zona. Una pattuglia dei vigili del fuoco della vicina Putignano, arrivata tempestivamente sul posto, dopo un accurato controllo all'appartamento, hanno dato il permesso di agibilità e abitabilità ai proprietari. Fortunatamente, per i proprietari, non si è tramutato il incendio. Sul posto è intervenuta una pattuglia di vigili urbani e carabinieri. Grazie. 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 Grazie.